Stamattina sento lo bisogno, la voglia o la faccio con voi, lo desiderio come la mangio con i fabbricatori, gli spazzini, gli mattonari. Amo le pitture, la mattina con lo latte e voi son tu speciali. Lecce le faccio impaggiunturate, le mie invece son tu soffici, con lo tonno, un uomitoro scattariciato. Sento lo bisogno della pittura a noi, anzi doi e per c'è non c'è. Facimo le insieme le pitture, il 26 febbraio, passa dall'angiolino e chiedi le pitture di Paolo Pagliano. Porta due vetti di farina, non poco di acqua, due pizzichi di lieve e due birra. Mangia pitture per non cambiare la nostra tradizione.